quella sera di mezza quaresima c'era un ballo in costume all'Elise Montmartre la folla entrava come l'acqua d'una chiusa nel corridoio svolgolante di luce che conduceva alla sala da ballo il possente richiamo dell'orchestra vero uragano di musica prorompeva dai muri e dal tetto si diffondeva in tutto il quartiere suscitava nelle vie e fino alle case vicine quell'irresistibile desiderio di saltare d'aver caldo di divertirsi che sonnecchia nell'intimo dell'animale umano e i frequentatori del luogo affluivano dai quattro punti cardinali di Parigi gente di tutti i ceti sociali amanti dei divertimenti grossolani e chiassosi del piacere smodato e licenzioso erano impiegatucci prosseneti sgualdrine ad ogni risma più o meno giovani o vecchie e ingioiellate o povere altre sui sedici anni animate da una gran voglia di far baldoria di darsi agli uomini di sprecar denaro signori eleganti in marsina in cerca di carne fresca di primizie non più intatte ma ancora saporose saggiravano in quella folla eccitata diffrugavano sembrava fiutassero mentre le maschere erano agitate specialmente dalla voglia di divertirsi già alcune quadriglie ben conosciute avevano richiamato intorno al loro turbinio saltellante fitte corone di pubblico la siepe ondeggiante l'impasto agitato di donne e uomini che circondava i quattro ballerini sannodava intorno ad essi come una serpe a volta a volta vicina e un po' discosta e a seconda delle evoluzioni dei danzatori le due donne che sembrava avessero le cosce attaccate ai corpi con elastici facevano con le gambe movimenti inverosimili le lanciavano in aria con tale forza da far pensare che quelle membra si involassero verso le nubi e poi subitamente le divaricavano come se fossero aperte fino a mezzo il ventre una gamba scivolando in avanti l'altra all'indietro in una spaccata rapida ripugnante e buffa i cavalieri di quelle donne spiccavano salti verticali agitando i piedi alzando e sbattendo le braccia come moncherini dali spennate e si indovinava sotto le maschere il loro respiro affannoso uno di essi che era entrato a far parte della quadriglia più apprezzata per sostituirvi una celebrità assente il bel sogno maschietti si sforzava di mostrarsi degno della sua compagna l'isca di vitello danzatrice più indiavolata e più instancabile eseguendo bizzarri a solo che suscitavano l'ilarità e l'ironia degli spettatori era magro vestito con ricercatezza e aveva una bella maschera lucida una maschera coi baffi biondi arricciati sormontata da una parrucca riccioluta sembrava una figura di cera del museo gravan una strana e fantagiosa caricatura del solito bel giovane dei giornali di mode e ballava con un ardore coscienzioso ma goffo e con un vigore comico a confronto degli altri nel cercare di imitare i loro sgambetti pareva lento pesante come un botolo che giocasse con levrieri applausi beffardi lo incoraggiavano e lui ebbero di fervore saltava con tal frenesia che a un tratto portato da uno slancio furibondo andò a cozzare col capo contro il muro formato dalla calca degli spettatori quel muro si aperse per fargli largo poi si richiusa intorno al corpo inerte prono esanime del ballerino venne sollevato trasportato via si gridava un medico un medico si fece avanti un signore giovane elegantissimo in marsina con grosse perle sul lucido sparato della camicia sono professore della facoltà di medicina disse senza boria lasciarono passare e lui raggiunse in una stanzetta con scaffali pieni di cartelle simile all'ufficio di un uomo d'affari il ballerino ancora privo di sensi che era stato adagiato su sedie messe in fila prima di tutto il dottore cercò di liberare il viso dalla maschera e si accorse che questa via deriva in modo complicato mediante una quantità di sottilissimi fili metallici che la legavano ingegnosamente agli orli della parrucca e serravano tutta la testa in una legatura salda di cui bisognava conoscere il segreto persino il collo era imprigionato in una falsa pelle che continuava il mento e questa pelle di guanto del colore di quella umana era attaccata al colletto della camicia si dovette tagliare tutto con una grande forbice e quando il medico ebbe fatto in quel curioso esame una larga apertura dalla spalla alla tempia si vide che lo strano involgro racchiudeva un vecchio volto d'uomo magrissimo pallido e rugoso coloro che avevano portato lì il giovane ballerino riccioluto rimasero così sorpresi che nessuno rise nessuno fiatò ora tutti fissavano con meraviglia quel uomo steso sulle seggiole impagliate quell'uomo dal volto triste con gli occhi chiusi e con ciuffi di peri bianchi alcuni lunghi spioventi dalla fronte altri corti spuntati sulle guance e sul mento e tutti guardavano anche accanto a quel volto compassionevole la graziosa maschera che l'aveva ricoperto quella fresca maschera giovanile quella fresca maschera giovanile che ancora sorrideva il vecchio si riebbe dopo essere rimasto a lungo privo di sensi ma si vedeva che era ancora molto debole molto sofferente e il medico temeva qualche complicazione pericolosa dove abitate domandò sembrò che lo strano infermo facesse uno sforzo per ricordarsene poi disse il nome di una via che nessuno conosceva bisogna quindi chiedergli in qual quartiere fosse e farvi altre domande il vecchio rispose a fatica con una lentezza e un'indecisione infinite che rivelavano il profondo turbamento della sua mente il medico riprese vi accompagnerò a casa sì vi accompagnerò io era nata in lui una viva curiosità di sapere chi fosse quello straordinario ballerino di vedere dove abitasse quel fenomenale saltatore e poco dopo un fiacr portò il medico e l'infermo al di là dell'altura di montmartre la casa era alta di poverissimo aspetto con una scala stretta e viscida era una di quelle case sempre incompiute crivellate di finestre isolate da due terreni vuoti era un sordido asilo di povera gente cenciosa come ne esistono tanti alla periferia delle grandi città il dottore aggrappandosi con la sinistra alla ringhiera delle scale umida e appiccicosa sorresse fino al quarto piano il vecchio che andava riprendendo un po di forza all'uscio a cui bussarono s'aprì e comparve una donna vecchia anche lei linda con una candida cuffia da notte che corniciava un volto ossuto dai lineamenti pronunciati un volto rude e bonario di popolana laboriosa e fedele quella donna esclamò ah mio dio che cosa gli è successo quando abbia avuto una sommaria spiegazione si mostrò rassicurata e volle rassicurare il medico dicendogli che quell'avventura era già capitata parecchie volte bisogna metterlo a letto dottore non c'è altro da fare dormirà e domani starà bene il dottore riprese ma riesce astento a parlare oh niente di grave è un ubriaco non ha cenato per essere agile e poi avrà bevuto due bicchierini d'assenzio per eccitarsi l'assenzio gli dà forza alle gambe ma gli annebbia la mente gli impaccia la lingua si ostina a voler ballare a questa età e non dovrebbe è una vera pazzia il medico sorpreso insistette ma perché così vecchio balla a quel modo la donna alzò le spalle rossa in viso per la collera che a poco a poco la invadeva ah sì perché perché vuol sembrare giovane con la maschera perché vuole che le ragazze lo prendano per un bell'imbusto che gli dicano sconcezze all'orecchio perché gli piace strofinarsi alla pelle delle sgualdrine alla loro pelliccia imbevuta di odori e sporca di pomate e di cipria che schifo e che vita la mia sono 40 anni che fa così adesso dottore bisogna metterlo a letto perché non gli venga male mi volete aiutare per favore quando è in questo stato da sola non ci riesco il vecchio si era seduto sul letto ora si capiva che era proprio ubriaco oscillava e lunghi capelli bianchi gli scendevano sul viso la sua compagna lo guardava con occhi pieni di tenerezza e di collera riprese guardatelo non ha una bella faccia per la sua età e si ostina a travestirsi da vagheggino perché lo credano giovane a pietà non è vero che ha una bella faccia dottore aspettate ve la faccio vedere proprio com'è prima di metterlo a letto andò a un tavolino su cui erano il catino la brocca il sapone il pettine e la spazzola prese la spazzola tornò presso il letto e sollevando e ravviando i capelli arruffati dell'ubriaco gli fece in pochi secondi una faccia da modello per pittori coi bei ricciolini cascanti sul collo poi scostandosi un poco da lui per contemplarlo insistette non è vero che è bello per la sua età sì davvero affermò il dottore che cominciava a divertirsi la donna soggiunse e se l'aveste conosciuto a 25 anni ma adesso bisogna metterlo a letto se no l'assenzio continua a fargli girare la testa vi prego dottore tirate quella manica un po più in su così va bene adesso i calzoni aspettate gli levo le scarpe ecco fatto ora tenetelo in piedi mentre scopro il letto ecco mettiamolo giù non si scomoderà mica per farmi posto dovrò sdraiarmi come potrò a lui non importa egoistaccio appena si sentì fra le lenzuola il vecchio chiuse gli occhi poi li riaprì li richiusa e il suo viso soddisfatto espresse un'energica volontà di dormire il dottore osservandolo con crescente interesse volle far parlare ancora la donna dunque va a fare il bel giovane nei balli in costume in tutti dottore e torna a casa la mattina in uno stato incredibile è il rimpianto vedete che lo spinge in quei luoghi e gli fa mettere una faccia di cartone sopra la sua sì il rimpianto di essere più quello sì il rimpianto di non essere più quello che fu nel passato e di non aver più i successi che aveva da giovane lui dormiva ora e cominciava a russare la donna lo contemplava con un'aria di compassione ne ha avuti di successi con le donne più di quanti si potrebbe immaginare più di quanti ne hanno i bei signori e tutti i tenori tutti i generali davvero ma che cosa faceva ah capisco ve ne meravigliate perché non l'avete conosciuto nei suoi anni migliori io lo conobbi appunto in una festa da ballo le ha sempre frequentate sempre a vederlo restai presa come un pesce all'amo era bello dottore era tanto bello da incantare quando una lo guardava bruno coi capelli neri come le penne di un corvo diricciuto con due occhioni neri grandi come finestre ah sì era proprio un gran bel ragazzo mi condusse via con sé quella sera e non lo lasciai più mai più nemmeno per un giorno sebbene spesso mi soffrire oh me ne ha fatte tante me ne ha fatte di tutti i colori il dottore domandò siete sposati lei rispose con semplicità sì dottore se no mi avrebbe piantata come le altre gli sono stata moglie e serva e tutto ciò che ha voluto e mi ha fatto piangere fiumi di lacrime che non vedeva perché piangevo sempre di nascosto piangevo soprattutto perché mi raccontava le sue avventure a me le raccontava a me dottore senza capire quanto ne soffrissi ma insomma che mestiere faceva è vero non ve l'ho ancora detto era primo garzone da martel ma un primo garzone come non ce n'erano mai stati un vero artista e guadagnava in media 10 franchi l'ora da martel chi era martel il parrucchiere dottore il gran parrucchiere dell'operà che serviva a tutte le cantanti tutte le attrici sì tutte le attrici più celebri più ricche si facevano pettinare d'ambroise e l'arricchivano con una continua pioggia di mance e di regalie ah dottore tutte le donne sono uguali tutte quando un uomo piace se lo pagano è tanto facile e lui mi raccontava tutto non sapeva tacere sono cose che fanno tanto piacere a tutti gli uomini provano un gran piacere quando le raccontano forse più che quando le fanno la sera quando lo vedevo tornare un po pallido con un'aria soddisfatta e con gli occhi lucidi pensavo un'altra ne ha avuta un'altra e allora avevo una gran voglia di interrogarlo una voglia che mi torturava e nello stesso tempo il desiderio di non sapere di impedirgli di parlare se avesse cominciato e ci guardavamo in faccia sapevo che non avrebbe taciuto che mi avrebbe raccontato tutto lo vedevo dal suo modo di ridacchiare per farsi capire oggi ne ho un'altra bella da raccontarti madeleine io fingevo di non capire di non indovinare e apparecchiavo la tavola e portavo la minestra e mi sedevo di fronte a lui in quei momenti dottore soffrivo pene d'inferno ma lui non se ne accorgeva aveva proprio bisogno di raccontare le sue buone venture a qualcuno di vantarsi di far sapere quanto piaceva alle donne e lì c'ero io sola che lo potessi ascoltare dovevo per forza stare a sentire e mi pareva di trangugiar veleno lui cominciava a mangiare la minestra e a parlare un'altra conquista madeleine io pensavo che uomo santo dio proprio a me doveva capitare riprendeva carina sai un bocconcino prelibato si trattava di una piccola attrice di vaudeville si trattava di una piccola attrice del vaudeville o delle varieté oppure altre volte di un'attrice rinomata mi diceva i nomi mi descriveva gli appartamenti i mobili tutto particolari che mi straziavano il cuore e insisteva si ripeteva ricominciava da capo con tanta soddisfazione che io fingevo di ridere perché non s'arrabbiasse vedendomi l'attristata forse qualche volta erano fandonie gli piaceva tanto vantarsi che certo era capace di inventare cose simili oppure tutto era vero quelle sere fingeva ad essere stanco di volersi colicare subito dopo cena si cenava alle undici perché lui non rincasava mai prima di quell'ora per le acconciature di teatro a cui doveva attendere quando aveva finito di raccontarmi la sua avventura fumava sigarette passezzando per la stanza ed era tanto bello coi baffetti e i capelli arricciati che io dicevo fra me eppure sì deve essere vero quel che racconta come io vado pazza per lui perché le altre non ne andrebbero pazze ma quante volte mi dice a piangere a gridare con una gran voglia di scappare di gettarmi dalla finestra mentre lui continuava a fumare sbadigliava a bocca spalancata per farmi vedere quanto era stanco e prima di mettersi a letto diceva due o tre volte come dormirò bene stanotte non gli servo rancore perché non sapeva quanto mi facesse soffrire no non lo poteva sapere si vantava delle conquiste femminili come un pavone che facesse la ruota era giunto a credere che tutte lo guardassero lo volessero quando cominciò a invecchiare fu anche pezzo ah dottore nel vedere il suo primo capello bianco mi sentì mancare il respiro per la scossa che provai ma subito dopo mi abbandonai a una grande gioia a una gioia cattiva ma grandissima pensavo è la fine è la fine dovrà sbettere mi pareva ad essere ormai vicina ad uscire da una prigione finalmente l'avrei avuto tutto per me per me sola perché le altre non l'avrebbero più voluto una mattina eravamo ancora a letto lui dormiva ancora e io mi chinavo su di lui per svegliarlo con un bacio quando gli vidi fra i riccioli su una tempia un filo lucente un filo d'argento che sorpresa la cosa mi pareva incredibile è impossibile lì per lì pensai di strappare quel capello perché lui non lo vedesse ma guardando bene ne scorsi un altro un poco più su capelli bianchi stava per incantire il cuore mi batteva forte sudavo tanto ero agitata ma in fondo era contenta non stavo più in me dalla gioia non lo dovrei dire perché rischio di farmi credere cattiva ma quella mattina fui allegra nel far le faccende di casa lasciandolo dormire e quando si svegliò da sé gli dissi sai che cosa ho scoperto mentre dormivi no sentiamo ho scoperto che hai dei capelli bianchi ebbe una scossa di dispetto che lo fece balzare a sedere nel letto come se gli avessi fatto il solletico e mi disse irritato guardandomi di traverso non è vero sì caro lì sulla tempia a sinistra ce ne sono quattro di capelli bianchi salto giù dal letto per correre a guardarsi nello specchio non si divide subito quei fili d'argento allora gli mostra il primo il più basso quello riccio dicendogli non c'è da stupirsene data la vita che conduci tra due anni sarai un uomo finito ebbene dottore fu proprio così due anni dopo era irriconoscibile tanto era invecchiato come cambia presto un uomo era ancora bello ma aveva perso interamente la freschezza della gioventù e ormai le donne lo trascuravano ah posso dire di non avere avuto un momento di pace in quel periodo come era cattivo come era crudele verso di me era sempre scontento sempre di pessimo umore lasciò il suo mestiere si mise a fare il cappellaio e ci perse del denaro parecchio denaro poi valledarsi al teatro e non riuscì poi cominciò a frequentare i balli pubblici per fortuna ebbe il buon senso di conservare un po di capitale quello di cui viviamo ci basta ma appena appena e dire che in un certo momento era quasi un riccone adesso sapete già quel che va facendo si lascia prendere da una specie di frenesia vuol essere giovane a tutti i costi vuol ballare con donne profumate imbellettate povero vecchietto povero vecchietto e la buona donna guardava intenerita e con lacrime agli occhi il suo vecchio marito che russava poi avvicinatasi a lui senza far rumore gli ed è un bacio nei capelli il medico si alzò e si accinse ad andarsene senza trovar nulla da dire davanti a quella coppia bizzarra mentre stava per uscire la donna gli disse volete farmi il favore di lasciarmi il vostro indirizzo se stesse male vi vorrei chiamare grazie a tutti